e l'alteprima del nostro telegiornale in questa edizione ci occuperemo innanzitutto di cronaca e vate dai domiciliari era stato Manuel Monaco il 27enne è stato rintracciato dalla polizia all'acquameno domani il processo per direttissima a Forio stanno lavorando in amministrazione per riaprire la colombaia lo sottolinea il consigliere comunale Donatella Migliaccio delle problematiche delle scuole parleremo con Nicola Manna di Aria Nuova della caserma dei carabinieri interviene Vito Iacono Don Pasquale Sferatore parroco di Monterone scrive al vescovo per le cresime diamo dignità alle parrocchie foriane a procida gli interventi del sindaco Ambrosino le risposte dell'opposizione di per procida le attività del partito comunista italiano marxista e leninista in vista del referendum del 4 dicembre lo sport il calcio Coppa Italia era fuori ai quarti di finale Biancoverdi hanno battuto il Virtus Walla per 3 a 2 quindi superano il turno domani al via la terza edizione di Voices Tour Festival ci sono gli altri appuntamenti insomma come sempre ci vediamo tra poco dopo la pubblicità albergo Carlo Magno sull'isola Dischia un posto da sogno un panorama mozzafiato il luogo ideale per una vacanza speciale hotel quattro stelle tutti i comfort quattro piscine palestra camere e residence con arredamento in stile mediterraneo a pochi passi dai centri storici di Forio e di l'acqua meno con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo servizio navetta gratuito hotel Carlo Magno per una vacanza dove i sogni diventano realtà l'hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante la beccaccia cucina tipica ischitana e piatti mediterranei pesce sempre freschissimo per i tuoi momenti più belli per una serata speciale per cerimonie e matrimoni hotel Carlo Magno e il ristorante la beccaccia emozioni uniche tra il cielo e il mare se cerchi le soluzioni per realizzare i tuoi sogni scegli un asso scegli associazione contro soffrittature rendi i tuoi ambienti più accoglienti più belli più vivibili le tue idee diventano realtà con archi e volte in nervo metal a cura di edil barbato rauci e con poliedrico ischia il tuo spazio prende forma il polistirolo è l'ideale per l'edilizia cappotti termici e cornicioni allestimento negozi e reparti termali ogni prodotto è realizzato ad ischia su misura per te al fianco di architetti geometri decoratori imprese edili poliedrico ischia e per restauri ricostruttivi e conservativi scegli matte rastucchi soluzioni in cartongesso ad alta prestazione acustica idro repellente ed antincendio operai qualificati realizzeranno i tuoi sogni associazione contro soffrittature ed il barbato rauci poliedrico ischia e matte rastucchi il tuo asso nella manica ti piace lo sport ti piace scommettere allora passa da noi passa a planet win 365 la sala scommessa per il tuo divertimento le quote più alte i bonus più vantaggiosi li trovi solo da planet win 365 planet win 365 e ad ischia ai pilastri nuova gestione e a casa miccio la terna in via cumana se ti piace scommettere c'è un pianeta dedicato a te planet win 365 il pianeta vincente delle scommesse il gioco è vietato i minori e crea dipendenza can you make others well seem right can you make others well seem right evade dai domiciliari arrestato manuel monaco il 27enne pluripergiudicato per estorsione spaccio e furto è stato rintracciato dalla polizia all'acqua meno domani il processo per direttissima fuori io migliaccio stiamo lavorando per riaprire la colombaia lo sottolinea il consigliere comunale donatella migliaccio il nostro progetto non è stato finanziato ma siamo primi nella graduatoria degli esclusi siamo fiduciosi don sferratore per le cresime diamo dignità alle parrocchie foriane il parroco di monterone scrive al vescovo lagnese suggerisce la non centralizzazione degli incontri è problematico per i giovani foriani raggiungere ischia lo sport il calcio coppa italia real forio ai quarti di finale i bianco verdi battono il virtus vol per 3 a 2 e superano il turno subito dopo il telegiornale la telecronaca dell'incontro ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di tele ischia apriamo quindi con la cronaca evade dagli arresti domiciliari la polizia arresta il pluripregiudicato manuel monaco è accaduto questa mattina intorno alle 11 e 35 gli agenti del commissariato di polizia diretto dal vicequestore aggiunto alberto mannelli hanno arrestato il 27enne pluripregiudicato manuel monaco per evasione l'uomo infatti è stato rintracciato nel comune di l'acquameno in violazione all'ordine di esecuzione della detenzione domiciliare che avrebbe dovuto scontare per otto mesi a partire dal 3 settembre scorso su disposizione del pm di turno manuel monaco è stato risottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo che si terrà domani al tribunale di napoli manuel monaco ha numerosi precedenti penali tra cui estorsione spaccio di sostanze stupefacenti furto in appartamento ed evasione la colombaia di forio necessita di lavori di manutenzione importanti le condizioni in cui versa la colombaia sono una spina nel fianco lo sottolinea il consigliere comunale di forio donatella migliaccio stiamo cercando le risorse per poterla recuperare e renderla fruibile al pubblico il nostro progetto di riqualificazione è il risultato ventisesimo nell'ambito dei finanziamenti 2016-2020 è un buon risultato purtroppo è il primo dei progetti non finanziati in questa prima fase ma siamo fiduciosi ascoltiamola consigliere migliaccio delegata al patrimonio alla colombaia novità importanti mi sembra per la colombaia sulla colombaia siamo risultati ventisei esimi nell'ambito dell'attribuzione del POC cultura 2014-2020 secondo me è un bellissimo risultato purtroppo il progetto non risulta essere finanziato però è il primo a non essere finanziato ciò che ci lascia sperare appunto in un ripescaggio comunque insomma è un'ottima posizione per poter cercare di strappare qualcosa di più da parte della regione io ci tengo a dire moltissimi ci hanno criticato lamentano continuamente lo stato di abbandono della colombaia che personalmente che per me personalmente è una spina nel fianco stiamo cercando di trovare le risorse per poterla riaprire al pubblico e chiaramente questo insomma è un primo importante passo per cercare di riaprirla. I tempi e i progetti che avete intenzione di mettere in pratica? Per quanto riguarda i tempi non posso garantire nulla in particolare comunque io non mi sento di dare dei tempi certi quello che posso dire che io personalmente ci sto lavorando quotidianamente sto cercando insomma di trovare principalmente i fondi per poterla riaprire perché la colombaia necessita di lavori di manutenzione piuttosto importanti penso per esempio al tavolato esterno già è stato affidato però comunque oggi con la stagione invernale i lavori sono fermi poi bisogna intervenire in particolare su alcuni infissi che stanno determinando delle gravi infiltrazioni nella parete che verso diciamo il bosco e che chiaramente non rendono la villa fruibile come dovrebbe essere più una serie di piccoli interventi di adeguamenti che sono necessari per poterla riaprire il pubblico poi chiaramente ci sarà il problema della gestione che il problema più rilevante e che va affrontato di concerto con tutta l'amministrazione l'amministrazione comunale di forio deve occuparsi seriamente delle problematiche della scuola lo sottolinea nicola manna del movimento aria nuova l'altra sera abbiamo assistito ad uno spettacolo indecoroso in consiglio comunale con la maggioranza intenta a prendere in giro le tante mamme maestre presenti al civico consesso inoltre dice manna del deo deve occuparsi anche delle problematiche degli istituti superiori intervenendo con forza presso la città metropolitana sentiamo la situazione delle scuole a forio nicola manna è una situazione che non ho esitato a definire imbarazzante si è verificato nell'ultimo consiglio comunale una scena che ha dell'incredibile alla presenza di mamme maestre e io dico anche di un consigliere che poi è dirigente scolastico come la dottoressa conti questa amministrazione non ha saputo fornire risposte concrete si è affidata sempre alla solita logica dei numeri che poi non rispecchiano quella che è la realtà perché in effetti le scuole foriane oggi necessitano di interventi strutturali forti e da questo punto di vista l'amministrazione si è disimpegnata lasciando le scuole in uno stato di abbandono totale addirittura oggi nel 2016 ci ritroviamo con degli stabili che franano o che addirittura presentano delle perdite di acqua una cosa inqualificabile e allora credo che l'amministrazione debba intervenire con forza e soprattutto concretamente per ridare dignità alla scuola al mondo della scuola io parlo in generale perché poi non dimentico che sul territorio foriano insistono tanti istituti scolastici e mi riferisco al nautico alexis a belladeste che è vero che appartengono a un altro ente che come competenza ossia la città metropolitana ma che però necessitano di un impegno da parte dell'amministrazione comunale a che si risolvano presto i problemi e in questo senso mi piacerebbe non assistere più a quelle scene di mortificazione della cittadinanza perché poi dopo bisogna dire che le mamme le maestre sono anche lo specchio di quello che è il pensiero del popolo foriano per cui bisogna ridare dignità a queste persone e soprattutto ridare dignità a un territorio come quello di forio prosegue senza sosta la campagna elettorale referendaria del partito comunista italiano marxista leninista per propagandare il no rivoluzionario al referendum costituzionale del 4 dicembre dopo gli appuntamenti di ischia e foriocentro questa volta l'iniziativa politica si è tenuta nell'area mercatale di panza in poche ore sono stati distribuiti centinaia di volantini e in tanti residenti e turisti si sono soffermati a discutere con domenico savio che nel suo intervento tra l'altro ha affermato che la legge elettorale voluta da renzi è ancora più reazionaria di quella approvata negli anni bui del ventennio fascista la nuova legge elettorale maggioritaria e presidenzialista detta italicum è di natura fascista denunciato domenico savio perché abolisce il proporzionale puro colpisce la rappresentatività e la sovranità popolare consente ai partiti della classe padronale la nomina e non più l'elezione di 100 deputati e attribuisce alla lista più votata pur si ottiene una basso percentuale di voti il 54 per cento dei deputati 340 su 630 inoltre abolisce il senato elettivo attribuisce il potere legislativo alla sola camera dei deputati maggiori poteri al presidente del consiglio ed accentra importanti poteri istituzionali per fermare questa svolta autoritaria conclude savio il popolo italiano ha una sola possibilità quella di votare no al referendum costituzionale di domenica 4 dicembre il consigliere di forio vitoiacono commenta dalla sua pagina facebook la notizia relativa al ripristino della caserma dei carabinieri e scrive solo chiacchiere e demagogia avevamo ben altre soluzioni immediate il piano terra del green flash l'ex ristorante il soccorso alcuni uffici del piano terra del vecchio municipio lo stato civile di panza che è chiuso eccetera preferisco dice vitoiacono fare proposte che mettono in difficoltà gli uffici e le istituzioni in fondo per lavarsene le mani loro la caserma dei carabinieri a forio non la vogliono commenta vitoiacono altrimenti in tre anni e mezzo avrebbero partorito ben altra proposta e poi penso sia il caso aprire un dibattito su questa scelta lo sperpero del pubblico denaro e l'area marina protetta l'ennesimo occasione persa per forio e l'isola dischia l'area rifiuti esistente sotto il ponte di cavagrado a pochi passi da sant'angelo è stata ripulita finalmente i turisti che passeggiano sul ponte per recarsi a sant'angelo non dovranno più vedere i contenitori di rifiuti e gli autocompattatori parcheggiati in quell'area ne dà notizia il consigliere lucio poerio iacono dal profilo facebook la ditta balga che gestiva il servizio dei rifiuti a serrara fontana ha completato la rimozione dei camion autocompattatori e vari contenitori che aveva parcheggiato nell'area che ormai sgombra sarà presto restituita al proprietario è da tempo che l'amministrazione stava cercando una soluzione alternativa pubblicando un avviso pubblico per la ricerca di un'area apposita da adibire a zona di parcheggio degli autocompattatori e per effettuare le operazioni di travaso sembra che ora finalmente sia giunta la risposta che in tanti si aspettavano da tempo infatti all'avviso pubblico sembra sia pervenuta un'offerta il presidente gialluca trani ha convocato il consiglio comunale di ischia per domani giovedì alle 17 in prima convocazione per il giorno seguente in seconda convocazione all'ordine del giorno l'avviso pubblico per la selezione dei gruppi di azione locale nel settore della pesca e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo la richiesta di chiarimenti sui lavori alla piscina comunale a palazzetto dello sport alla palestra della scuola media i lavori fognari con l'eventualità di istituire una commissione consigliare d'inchiesta ed ancora l'approvazione del progetto definitivo dei lavori urgenti per la sistemazione di via tirabella ai pilastri per i corsi delle cresime non centralizzare tutti gli incontri a dischia e il suggerimento di don pasquale sferradori rivolto al vescovo monsignor lagnese non in spirito critico non sono in contrasto con il vescovo noi parro ci siamo in mezzo al popolo ed ascoltiamo le esigenze i giovani che frequentano i corsi non riescono la sera a raggiungere dischiaporto per partecipare ai corsi di preparazione un po per studio un po per lavoro i corsi vanno fatti da novembre a febbraio quando la stagione turistica è ferma il fatto di andare a dischia ha dato un po in testa alla gente ascoltiamo don pasquale don pasquale sferratore avete fatto una lettera al vescovo dando qualche consiglio possiamo riassumerla io preciso che non era un contrasto col vescovo è una mia opinione i superiori vedono a modo loro noi vediamo a modo nostro perché siamo in mezzo al popolo quindi ascoltiamo il bene e il male e quindi cerchiamo di fare da tramite tra i superiori e la gente qual è il vostro consiglio il consiglio che ho dato era questo che questa che cresce prima di tutto dopo 17 anni prima si faceva subito dopo del battesimo poi dopo un anno dopo della prima comunione ed è lo più opportuno che i ragazzi già da loro si fanno il sacramento poi crescono invece si allontanano e non lo fanno più quindi era opportuno lasciare a quel punto là seconda cosa il vescovo ogni volta c'è la sua ragione a ischia a ischia a ischia non è che noi siamo contro ischia ma le sera otto e mezza parte da fuori da sant'angelo a succhi e vai a ischia quanto tempo ci vuole parcheggio non ce la stanno e e quindi quindi questo sempre per le cresime per le cresime 11 incontro a ischia l'altro 3 di ritira e tutto il resto come neocatecomenale sono tutte queste cose qua siccome noi siamo di fronte a questa realtà la stagione turistica finisce con novembre ed inizia con febbraio questi giovani hanno questo spazio per poter prepararsi e ricevere questi sacramenti allora noi facciamo tutti il possibile faccio tre volte la settimana alle volte anche quattro per quelle che vengono da napoli per quale ragione perché la gioventù va a studiare molti vanno a napoli questa per meglio me e vengono a sera o vengono il sabato e quindi a volte metto a disposizione anche per quelli del sabato quando vanno a lavorare a sera alle otto e mezza finiscono di lavorare e possono venire ma partirti da qua e andare a ischia a quell'epoca noi facciamo la preparazione ma tutto questo ischia 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 è una cosa che ha dato un po in testa la gente come una battuta ma perché non possiamo farlo qua quindi voi chiedete di fare questi corsi a fuorio e questo corso a fuorio noi le facciamo però loro vogliono questa specie di controllo a ischia di supervisione a ischia non so per quale ragione forse perché saranno loro più approfonditi poi si parla di un cammino di esperti di queste tecniche che le non sacramenti che si riceve nella forma più semplice nella forma più intima e allora è bello quando noi prepariamo queste ragazze a queste cose semplici però sentite perché quando ogni volta abbiamo finito il corso tutti noi diciamo ma ma non c'è finuto ma la sera dobbiamo non è così bello stare insieme ma mangiavamo qualche pizza insieme perché è bello anche questa parte qua allora quando invece devono andare a lontano per loro è molto più difficile e allora quello che chiedevo era non finire ad aprile ma secondo le varie zone così regolarci e cioè già l'anno scorso ci aveva detto questo e facciamo poco dopo per fare all'inizio di gennaio una cosa del genere una cosa pratica non peraltro. Ci spostiamo a Procida trasferita la sede della SAP soddisfatto il sindaco Ambrosino che commenta l'impegno è stato mantenuto abbiamo sciolto il contratto con il privato che aveva dato in locazione un immobile a via Roma in cima a una rampa di scale scomodissimo da raggiungere abbiamo sistemato decorosamente una struttura pubblica e senza oneri aggiunge il sindaco vi abbiamo trasferito la nostra azienda dell'acquedotto garantito un bel risparmio la comodità di avere nello stesso sito tutti gli uffici pubblici e l'accessibilità diretta anche per i cittadini con ridotta capacità motoria e il sindaco di Procida annuncia che tra pochi giorni via Cavour sarà riaperta al traffico lungo la strada sono stati sistemati i cubetti con una nuova malta cementizia più resistente la stessa che sarà utilizzata per riprendere alcuni tratti di via regina Elena verifichiamo che a differenza del tutto va bene professata dal sindaco Ambrosino nuovi interventi speriamo questa volta definitivi si profilano all'orizzonte di Palazzo Merlato lo sottolinea il gruppo di opposizione per Procida da mesi purtroppo andiamo dicendo che quanto si inquifatto o non fatto presso l'imponente struttura di Marina Grande con in circa 3 milioni di euro di finanziamenti nell'ambito dell'oramai tristemente famoso progetto del waterfront ci convince poco ed è evidente che al di là delle frasi di facciata e alla poco comprensibile difesa d'ufficio tentata dall'amministrazione le nostre perplessità insieme a quelle di tanti cittadini sono ben giustificate domani 17 novembre si celebra il World Prematurity Day la giornata mondiale del neonato prematuro istituita nel 2008 lo scopo di questa manifestazione è quello di informare a crescere l'interesse sui nati prematuri bambini venuti al mondo prima dello scadere delle canoniche 37 settimane di gravidanza e con un peso inferiore ai 2 kg e mezzo tra le iniziative dedicate a questo argomento e alla giornata mondiale del neonato prematuro è quella di illuminare un monumento una piazza un'opera d'arte di colore viola il colore simbolo dei nati prematuri quest'anno l'amministrazione comunale di procida sensibile vicina all'argomento e alle diverse famiglie isolane che hanno vissuto e vivono la difficile realtà della nascita prematura di un figlio domani giovedì illuminerà gli archi di palazzo catena di colore viola palazzo catena si unirà quindi alla fontana del nettuno in piazza della signoria a firenze il castello dell'imperatore a prato le colonne d'oriche del tempio arcaico di piazza castello a taranto o la loggia della gran guardia in piazza dei signori a padova siamo allo sport il calcio coppa italia tira un sospiro di sollievo il real forio il virtus vola spaventa gli isolani ma alla fine cede sul 3 a 2 allo stadio calise i bianco verdi forti anche del 2 a 1 ottenuto all'andata cedono ai quarti di finale dove troveranno la sessana che ha eliminato il casanovo di citarelli gli isolani inizialmente vanno in vantaggio con massimo de luise poi il vola trova il pareggio con una splendida punizione di toni costaiola a cui fa seguito il 2 a 1 siglato da di manzo il forio riesce a pareggiare sul rigore con chiaese e sul gong davide trofa mette a segno il 3 a 2 da segnalare però l'espulsione di felice a 10 minuti dalla fine del primo tempo la parità in campo è stata poi ristabilita quando è toccato agli adicicco lasciare il terreno di gioco a 10 minuti dalla fine della gara vediamo le immagini della sintesi si comincia è iniziato il ritorno degli ottavi di finale tra real forio e virtus vola chiaese al cross attenzione miracolo sul colpo di testa di massimo de luise staiola toni poi attenzione a fiorillo pallone diventa buono per luca costaiola costaiola pericoloso il vola serie fase un po' confusa della partita ora il pallone attenzione buono è costretto ad uscire cerbone ne approfittano per prendere le classiche decisioni scellerate ora attenzione perché si fa scavalcare dal pallone marino non se l'aspettava neanche massimo de luise lancio perfetto per trani il cross per de luise il tiro di de luise le parti di trofa la prende lui poi mazzella defelice tocco per massimo de luise de luise de luise il gol del forio 1 a 0 assediato massimo de luise ora prova a rispondere il bolla che è sotto 1 a 0 attenzione adesso al la traversa piena di lorenzo costaiola mette movimento defelice scontro tra defelice e nasti e fallo di defelice rosso addirittura per defelice si riparte con il secondo tempo tra real forio e virtus vola ecco la battuta di chiaiese cross sul secondo palo massimo de luise non ci arriva di un soffio parte costaiola col sinistro che gol di costaiola pallone buono per trani bel dribbling di trani pallone per trofa trofa alto sulla traversa ovviamente non ha niente da perdere toni costaiola pallone per lorenzo costaiola 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 a porta vuota arriva il gol di di marzo con appena 14 giocatori senza lorenatore molti di questi sono ragazzi sicuramente non ci farebbe bella figura il forio attenzione a costaiola costaiola e qui cerbone risponde bene uno scemo forse qualcosina in più cartellino rosso pallone in mezzo non ci arriva nessuno mano calcio di rigore per il forio anche sugli spalti attendono tutti in silenzio la battuta di ciccio chiaiese parte chiaiese adesso però bisogna difendersi e magari provare ad attaccare vitagliano vitagliano insiste vitagliano vitagliano pallone dentro massimo de luise azione clamorosa sbagliata da massimo de luise sannino batte lui calice incredibile era solo calice ma sbaglia attenzione al pallone buttato in mezzo non c'è il fischio dell'arbitro vitagliano deve spazzarla il pallone buono per trofa trofa tu per tu il portiere fuori dai pali insiste trofa 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 la chiude lui tre a due forio e finisce qui il forio batte il vola tre a due e accede ai quarti di finale della coppa italia eccellenza e promozione abbiamo superato il turno siamo contenti ha commentato a fine gara il direttore sportivo del real forio vitomanna è stata però una partita nella quale ci siamo complicati noi la vita con un'espulsione un'ingenuità fine primo tempo che ha compromesso il gioco nel secondo tempo con un uomo in meno sentiamo siamo con vitomanna direttore sportivo del real forio direttore si accede ai quarti di finale però una partita da brividi perché si era messa male all'inizio sì una partita dove ci siamo complicati noi la vita un'espulsione un'ingenuità a fine primo tempo ha compromesso il secondo tempo dove abbiamo giocato una persona in meno però alla fine va bene così e l'occasione per far giocare chi fino adesso ha trovato meno meno spazio abbiamo superato il turno siamo contenti e e aspettiamo adesso mi sembra la sessana abbia superato il turno non lo so quindi continuiamo comunque quarti di finale significa un traguardo importante fino a questo punto della stagione quindi siamo contenti direttore un po contestato l'arbitraggio anche dalla tribuna l'espulsione di De Felice francamente non abbiamo ancora capito se era così grave quello che quello che gli ha detto anche durante la gara è stato allontanato lo stesso in pagliazzo insomma c'è stata un po di protesta siamo per la seconda partita consecutiva a dire che l'arbitraggio lascia qualche dubbio però non dobbiamo parlare dell'arbitro sicuramente il nostro calciatore ha fatto un'ingenuità nel rispondere all'arbitro quindi avrà avuto le sue motivazioni per esperrerlo e ripeto per noi più che l'errore dell'arbitro è un'ingenuità del nostro calciatore che non si deve più verificare. Per quanto riguarda la partita poi alla fine siete riuscite a pareggiarla prima poi a vincerla tutto sommato una buona prestazione anche di chi magari non trova molto spazio durante il campionato. Sì ripeto la prestazione alla fine è stata tutto sommato positiva Massimo De Luise che è un attaccante che gioca poco ha avuto modo di giocare di segnare ha fallito anche la doppietta sul finale dove poteva chiudere la partita però voglio sottolineare le prove dei calciatori come Trani proprio come De Luise che giocano che giocano di meno quindi siamo tutto sommato contenti. Obiettivi per questa Coppa Italia ormai siete ai quarti provate a vincerla magari. Eh sì la strada più corta per arrivare in serie D vinciamo la Coppa Italia no giochiamo partita per partita più si va avanti e più c'è una partita in più durante la settimana dove chi gioca meno può giocare poi naturalmente si arriverà più si va avanti e più si incontrano squadre di spessore quindi sarà difficile superare già il prossimo turno però noi ci proveremo e ci divertiamo. Melanie Saturnino dell'istituto alberghiero di Ischia a Telese classe terza A di Salabarra è stata selezionata per usufruire del corso triennale per sommelier a partire dal primo sino al terzo livello. Si tratta di un'occasione che gli chef Nino di Costanzo e Pasquale Palamaro di concerto con l'associazione sommelier di Ischia hanno offerto alle eccellenze dell'istituto telese. Un'iniziativa spiega il dirigente scolastico Mario Sironi che intende valorizzare la costruzione di esperienze professionali per i giovani dell'isola all'interno della splendida esperienza di Ischia Safari e dei percorsi scolastici dell'istituto telese. Parte domani sera la terza edizione di Voices Tour Festival concorso canoro itinerante ideato e condotto da Mino Ferrandino. La prima serata domani alle 21 al teatro polifunzionale di Ischia. Anche quest'anno Tele Ischia sarà da partner in prima fila per seguire tutte le puntate settimana dopo settimana. Ascoltiamo Mino Ferrandino. Voices Tour Festival terza edizione siamo ai nastri di partenza. Mino Ferrandino. Pronti si parte finalmente Amedeo. Era ora. È stata una lunga gestazione questa volta però siamo pronti. Sono pronto prontissimo. Quali le novità? Tante tantissime. Ve ne svelo qualcuna velocissimamente perché poi dopo le venite a vedere dal vivo. Si parte dopo domani. Anzi no domani oggi è mercoledì quindi domani pensate voi domani sera 21 e 30 al teatro polifunzionale la prima tappa di Voices Tour Festival 3.0 la musica riempie il cuore. Questo è il nostro slogan di quest'anno hashtag la musica riempie il cuore. Quindi domani sera avremo i 12 sfidanti, i 12 partecipanti, i 12 cantanti di quest'anno che si contenderanno la palma di migliore voce isolana. Gireremo l'isola in queste 12 tappe. Si parte appunto domani 17 novembre si termina con la finalissima il 2 aprile al teatro polifunzionale. Iniziamo al teatro finiamo al teatro. Intermezzo avremo sei tappe delle 12 al Lucignolo a Forio quindi avremo anche una dimensione un po' club, un po' night se vogliamo e poi avremo la fatidica tappa della festa della donna riconfermatissima al ristorante La Beccaccia dove faremo una grande festa, una grande cena spettacolo per tutti. 12 ma 12 volti nuovi. Certamente l'unico volto conosciuto, gli unici volti conosciuti sono due maschietti, il veterano in assoluto perché Francesco D'Ambra che per la terza volta ci riprova, si rimette in gioco e poi dalla prima edizione ritorna Gian Maria Dell'Omo. Gli altri 10 sono tutti nuovi, tutti da scoprire. Allora ci vediamo domani? Certo vi aspetto domani sera ore 21 e 30 calcio d'inizio, una dimensione che ti consona, si gioca quindi 21 e 30 teatro polifunzionale a dischia, vi aspetto. Voices Tour Festival, hashtag la musica riempie il cuore. Bene e in conclusione come sempre uno sguardo al meteo, vediamo che tempo farà su una distruzione di campagna. Previsioni per oggi, al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni, in montagna, nubi basse e nebbia in sollevamento, con qualche schierita. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni, in montagna, soleggiato, ma con poche nubi sparse. Previsioni per domani, al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni, in montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, schierite alternate, a nubi sparse. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Bene, ci vediamo qui questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio quindi alle previsioni nazionali per quanto riguarda il meteo, subito dopo la telecronica dell'incontro di Coppa Italia tra Real Forio e Virtus Volla. Noi ci rivediamo come sempre all'edizione delle 14. Arrivederci. Forio e Virtus Volla. Noi ci rivediamo il tempo. Noi ci rivediamo il